Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tommaso Grossi è morto a 14 anni per una grave forma di tumore. Ne avrebbe compiuti presto 15, ma non ha fatto in tempo. Il suo funerale è stato celebrato al Duomo di Santa Sofia di Lendinara, in provincia di Rovigo, dove viveva con la famiglia. Il ragazzo viene descritto da chi lo conosceva come pieno di energia, con una fede incrollabile e una forza incredibile che lo hanno aiutato ad affrontare la sua terribile malattia. Il parroco del suo paese racconta di quella lettera scritta a Papa Francesco per raccontargli ciò che stava passando, lettera a cui il pontefice aveva subito risposto. A Tommaso Grossi era stata diagnosticata una grave forma di tumore che in un primo tempo, però, sembrava essere stato sconfitto. Ma poi il male si era ripresentato in maniera ancora più forte. Per questo il 14enne aveva deciso di scrivere al Papa, per raccontare la sua condizione e per esprimere la sua gioia per aver ricevuto la cresima. Papa Francesco gli ha risposto, rivela Don Alberto. L'ha ringraziato, gli ha assicurato la sua preghiera e gli ha chiesto di pregare per lui, ha detto che era contento di aver ricevuto la sua lettera e di quello che ha letto riguardo la cresima.